Mi chiedono, altre note scolastiche io ti rubo tua madre Prendetevela! Prendetevela! È vero quindi gliela diamo amore, gliela diamo Ve la lascio con tutto il cuore proprio Note scolastiche, la mamma mia non si tocca L'alunno entra in classe con infradito, costume, canota e sombrero E già qua poteva bastare, ma invece no Pensando di essere in spiaggia, al mio intervento mi zittisce e mi chiede un mojito Immaginate la faccia della professoressa, ho capito scusa Allora, questa l'ha pubblicata un ragazzo ieri sul suo profilo e mi avete taggato in tanti Volevate la reaction ed eccola L'alunno rutta in classe e fa una capriola sul banco Facendo andare una banana di traverso al suo compagno di banco Ci sono veramente tante cose che io vorrei chiedere Ma poi penso, perché? È memorabile, è fantastica così Tante domande ce le ho, eh? Sì All'uscita dall'istituto l'alunno cerca di investirmi Va bene L'alunno, chiamato alla lavagna per cancellare la parte alta della lavagna perché la sua compagna non ci arriva Si lamenta del fatto che nessuno lo paga per fare assistenza ai nani Assistenza ai nani Taggate la vostra amica Bass Durante la spiegazione di storia dell'arte l'alunno alza la mano Pensavo volesse fare una domanda e invece una volta dattogli il permesso di parlare Si alza ed emette un rutto di notevole intensità Almeno ha riconosciuto il talento di questo ragazzo Durante l'ora nel laboratorio multimediale Gli alunni elaborano un, anche troppo, realistico manifesto funebre Con il mio nome e contanto di mia foto Siete invitati Siete invitati al mio funerale Altre note O ti mando la melonia a casa Ma voi siete parati Meglio non rischiare Note scolastiche Gli alunni preparano Il minestruore durante la mia ora Ma in che senso? Ragazzi abbiamo letto soltanto una E io sto già Sto già morendo L'alunno cerca di cancellarmi dalla faccia della terra Con l'ausilio Immaginate le sceme vi prego L'alunno cerca di zittirmi puntando Magari funzionasse così L'alunno lancia pezzi di prosciutto Contro il muratore al piano di sotto Cercando di centrare Cercando di centrare il solco tra le sue natiche L'alunno vende funghi durante la lezione Vabbè dai Gli alunni affermano che l'immagine della mummia riportata sul libro di storia Sia in realtà Una mia foto da giovane In realtà è un complimento Bella, magra, magra, secca, secca Al mio ingresso in aula Trovo la bidella Yolanda Ammanettata alla cattedra Ma perché? L'alunno continua a chiamarmi zia rosa Alla mia richiesta di spiegazioni Afferma che io somiglio fortemente a sua zia rosa Soprannominata La cozza pelosa Non era un complimento mi sa Raga, questa vince a mani basse su tutto proprio L'alunno mi porge un mazzo di profumate rose Ero commossa da tale gesto senza secondi fini Solo il giorno dopo ho realizzato Che quelle rose provenivano dal mio gioco Chi cazzo è Giulia? Dimelo Ho capito scusa Da oggi mi chiamerò Giulia Note scolastiche Iniziamo col botto L'alunno mi fa i complimenti per L'orribile e spaventoso costume di Halloween che indosso Peccato che io Non indossi alcun costume L'alunno finge di essere una di quelle capre Che svengono per lo spavento E svieni ogni volta che vivo L'alunno mi offre con insistenza una carota tirata fuori L'alunno mi ha capito scusa Non so cosa pensare Aiuto Ti so sto piangendo La classe in mia presenza sta organizzando il mio lavoro Sono distrutto Gli alunni mi regalano uno scopino da bagno definendolo come spazzolino per facce da culo Mi fa male tutto L'alunno rapisce la collaboratrice scolastica Perché non si sa L'alunno decide di calarsi dalla finestra con l'ausilio di una corda d'alpinismo Poco dopo viene recuperato Da un pino Scusate non l'avevo finito L'alunno prepara caldarroste sul davanzale della finestra Chi è che non lo fa? Altre note scolastiche o non avrai mai una gioia? Amo! Ma chi l'ha vista mai una gioia? Facciamo così Ti rispondo con le note scolastiche Soltanto per vedere se me ne arriva una Grazie a questo commento Note scolastiche per la gioia di Fabio Alla domanda Qual è la cosa che più ti piace della scuola? L'alunno risponde Le macchinette E' stato onesto? L'alunno dichiara che studiare non gli servirà a nulla nella vita Poiché da grande vuole fare lo spacciato L'alunno vende un uomo ai compagni Sto aspettando che finiscano L'alunno dapprima tenta di tagliarsi i pantaloni Dopo il suo fallimento comincia a tagliarsi la gamba Perché? Non capisco La classe balla e canta maracaibo durante l'ora di matematica Coinvolgendo un'altra classe Ed il docente di diritto Docente! Manco Io se fossi un professore L'alunno bestemmia in classe Richiamato afferma che sono affari privati tra lui e Dio Ci sta And the winner is L'alunno afferma che da oggi Si impegnerà a mantenere i suoi voti Come i prezzi della Conad Bazzi e via Ti dedico una torta Se fai altre note scolastiche Allora Io le note scolastiche le faccio Ma perché ha un secondo fine? Cosa me ne faccio della dedica? Io la torta la voglio Me la devi mandare Ti do l'indirizzo in privato Note scolastiche! L'alunno taglia un pezzo di tenda E lo usa per soffiarsi Ci sta L'alunno assume un comportamento Totalmente irrispettoso Nei miei confronti E mangia castagne durante la lezione In classe viene rinvenuta una transenna Raga io sto già piangendo eh La terza nota è questa Invece di mandarmi il testo richiesto Cioè guardate Il testo richiesto per email Tutti i componenti della classe Mi mandavano una foto Dirò così freddi Per fortuna resti Durante l'uscita didattica a Bologna L'alunno ruba tortellini Io non ci credo L'alunno cerca di vendere un termosipone Non ho capito Scusa Raga Qui c'è il del genio Vincitore di tutto La classe disegna al computer Un falso biglietto aereo Intestato a me Sotto la voce destinazione C'è scritto Fa ancora Voglio altre note Oppure la tua maestra Verrà a vivere da te Ho capito Scusa Dipende da quale Perché ne avevo una raga Che puzzava da morire E sputacchiava pure Quando parlava Comunque Per celebrare La settimana Del back to school E per alleggerire Le vostre stanche menti Una compilation Delle migliori note scolastiche Mai lette fino ad ora E devo dire che Alcune le avevo dimenticate Ma mi sono pisciato sotto La classe Non è in classe Dov'è la classe? Questa Questa è una delle migliori In assoluto Raga L'alunno io Risponde Bevi Ogni volta che lo richiamo Genio L'alunno Mangia cozze crude E beve vino Durante la lezione E' sicuramente pugliese Durante l'appello Dopo ogni nome La classe esclama in coro Pega Dopo che il sottoscritto Grida Eeeh Per richiamare l'attenzione L'alunno risponde Magari Oddio Ce ne sono tante Ancora L'alunno giustifica L'assenza del giorno prima Con Dovevo picchiare bene Mio cugino Ci sta L'alunno L'alunno arriva in classe In ritardo Per il seguente motivo Scarpele L'alunno cerca di gettare la pitella Dalla finestra L'alunno giocherella Con le castagne Del compagno Ora Cosa si intende Per castagne L'alunno 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 È l'unica cosa Che so fare Ti prego Non ho alcun talento Lasciami almeno Una gioia Una Comunque Alle mie risate Ci tengo Partic... Non scusa Carrellata Di note scolastiche Alla mia domanda Che hai fatto Quest'estate L'alunno Risponde Schiva Mood Di tutti L'alunno Insiste Per leggere Alla classe Una poesia Da lui Scritta Mentre era in bagno Cadono i petali Cadono le foglie E tu Stronzino mio Perché Non vuoi Che sia Il nuovo Giovanni Pascoli Genio L'alunno Mi regala Un bigliettino Con su scritto Una dedica Per lei Alla mia richiesta Di quale fosse La dedica L'alunno Mi ruta E fa Romantico Al mio ingresso In aula Trovo una ciabatta Incollata Al soffitto E qui mi faceva ridere La scena della prof Che entra Raga Ma chi è Che ha perso Un sondale Ma Oddio Sto piangendo L'alunno Rientra dal bagno Portando con sé La pitella Togna Legata E imbavagliata La rapita Perché Boh così L'alunno L'alunno Si alza Senza permesso E distribuisce Senza alcun motivo Foto di cantini Ai compagni Ecco Io credo Di non avere capito L'alunno Lancia un panino Dalla finestra Fin qua Ci sta Urlando Si viene Una volta sola Qual è il collegamento Tra le due cose Esattamente La classe Mi regala Un navigatore GPS Alla mia richiesta Di spiegazioni L'alunno Risponde Così Sa qual è la strada Più veloce Per andare Secondo voi A Fagula Che gentili Scusate Sto pensato Al sondale Altre note Scolastiche O sarai incinto Di un arancino Per quanto Mi possa fare schifo L'idea Che quel cosino Fritto Vabbè Niente Sono già Incinto Eh ma Ma di un panzerotto Infatti Devo fare L'album Premaman Con tutta La Friggitricio Vabbè In ogni caso Meglio non rischiare Ed è per questo Che ho per voi Una carrellata Di note scolastiche Evitiamo Gravidanze Indesiderate L'alunno Viene sorpreso A gonfiare Una piscina Per bambini Nei bagni Cose che succedono Tutti i giorni Voglio dire Ci sta Scusate Scusate L'alunno Mi regala Una tronda Una trota Viva All'interno Di un secchio Piero d'acqua Tutto ciò In casa La quarta Vabbè L'alunno Paragona La mia presenza In classe Alla presenza Dei canditi Nel panettone Natalizio La ritengo Un'offesa gravissima Eh Un'offesa gravissima Prof Perché i canditi Fanno schifo L'alunno A ricevimento Del compito Di matematica Le recita Il padre nostro Integrando in esso Diverse bestemmie Mi sembrava strano Questo Potrei benissimo Essere io L'alunno Beve il whisky Che avremmo dovuto Utilizzare Per l'esperimento Di chimica Sulla densità Dei liquidi Palese Io Allora Io su questa Ho appena smesso Di piangere Cercherò di leggerla Senza ridere L'alunna Insieme al vicino Di banco Gioca A indovina chi Con la pagina Dei defulti Del quotidiano Del quotidiano Locale Se non fai altre note Ti rubo La nonna Ragazzi Forse stiamo Esagerando Poco poco Non permetterò Mai che succeda Questo Ordunque Note scolastiche Nonna Ti salvo io Alla mia domanda Chi era San Francesco L'alunno risponde Uno strafattone Che parlava Con gli uccelli Ed effettivamente Tutti i torti Non ce li ha Durante l'uscita Didattica A Milano L'alunna Viene portata A Milano Vogliamo Sapere perché Ti prego Alunna B Dici Che cosa Hai fatto Perché Vogliamo Sapere perché Se qualcuno Se qualcuno Conosce L'alunna B Vi prego Contattatemi Gli alunni Mi fanno trovare Un water di ceramica Nuovo Sulla cattedra Con un fiocchettino E un bigliettino Con su scritto Vai Che pensiero carino L'alunno Si mette Il flauto Nel Attenzione a questo Nel Fondoschiena Cercando Di suonare Cercando Di suonarlo Mettendo Flatulenze Io sto piangendo Sono seriamente Preoccupata Per la sanità mentale Mia L'alunno Dopo aver ottenuto Il consenso Per andare in bagno Viene sorpreso Mentre cerca Di catturare Un piccio In cortile Gli alunni Giocano a freccette Nel corridoio Utilizzando La bidella La bidella Come bersaglio Ma perché Vi prego Hashtag Io sto con le bidelle Non capito Scusa Se vuole essere Una minaccia Non lo è Perché dopo aver scoperto Che le piace La pizza con l'ananas Non siamo più Migliori amici Quindi te la regalo Faccio lo stesso Le note Ma lei Annalisa E tua Te la regalo Al mio ingresso In aula L'alunno Mi fa lo sgambetto E si scusa Dicendo Volevo solo Vedere La caduta Di Troy Non metterò più piedi In questa classe In presenza Dell'alunno P Rip L'alunno Afferma che preferirebbe Ascoltare Gigi D'Alessio Piuttosto Che la mia lezione Sono ferita Lo saremmo tutti prof Questa è una dichiarazione Bella grave L'alunno Una bubucela Durante la lezione Ora La bubucela Esattamente Dove ce l'aveva Nascosta Perché si vede Scusate L'alunno Si depila Durante la lezione Vabbè Dipende da quale zona Del corpo Vabbè L'alunno Passa l'ora In piedi Perché sostiene Di essersi Dimenticato Come ci Tipo Peter Griffin L'alunno Viene Oddio sto piangendo Viene mandato In presidenza A causa del suo Comportamento Scorretto Poco dopo Sento la sua voce Provenire dall'altoparlante Dire Allontanarsi Dalla linea Idolo Idolo L'alunno Entra in classe Vestito La sua Ora Bestemmiando A gran voce Mi sarebbe bastata Anche questa Alla mia richiesta Di spiegazioni Dichiara Buongiorno Sono sorpresa Effettivamente Ho fatto fatica A trattenermi Da ridere Io se fossi stato Il professore Sarei morto Con le lacrime Dalle risate Gli avrei dato Pure una medaglia La luna Tira fuori Una gallina Dal suo zaino Nel bel mezzo Della lezione La luna E il pennuto Sono stati Accompagnati In presidente